Lunedì sera nella sala consigliare del comune di Scandiano il sindaco e il vice sindaco hanno risposto ai miei due video precedenti, quelli che avevano per oggetto l'ecomostro in fase di costruzione situato all'ingresso del paese. Due video da me proposti su Facebook che hanno riscontrato addirittura 5.000 visualizzazioni, non certo per merito mio, ma per l'interesse che l'argomento in questo momento, in questa fase, suscita tra la maggioranza dei cittadini della città del Boiardo. Ebbene, sindaco e vice sindaco non sono però entrati nel merito della questione, ma si sono semplicemente arrampicati sugli specchi, non senza imbarazzo. Anziché rispondere ai dubbi, alle perplessità, allo shock dei cittadini di fronte a quella struttura così poco armoniosa nel contesto in cui si trova, si sono invece, come dicevo, arrampicati su questioni marginali, eludendo di fatto di giustificare agli scandianesi lo scempio che fa al paesaggio quello scatolone di cemento. Cercando di allontanare, non riuscendovi, l'attenzione è dalle loro scelte scellerate per concentrare le loro rimostranze sui termini utilizzati dal sottoscritto nei due video precedenti. Per cui, sindaco e vice sindaco arrivano ad insinuare inesattezze, a loro modo di dire, contenute nelle mie parole. Loro ritengono sia un errore parlare di variante, parlare di ecomostro e che tutta la fase preparatoria di quell'intervento sia stato fatto nel pieno rispetto dei regolamenti, nessuno lo mette in discussione, addirittura con criterio e buonsenso. Anziché riconoscere di fronte ai cittadini che lì è stato compiuto un errore che è diventato poi orrore, loro sono convinti del contrario. Come si fa a sostenere che lì non vi sia stata alcuna variante? Se analizziamo il termine dal punto di vista del linguaggio gergale e non di quello tecnico-politichese, nel vocabolario della lingua italiana, vice sindaco Ferri, variante significa modifica parziale di qualcosa rispetto a quanto stabilito in precedenza. Come si fa a sostenere sindaco Nasciuti che quello non sia un ecomostro perché a suo modo di dire dietro la parola ecomostro si può nascondere qualcosa di illegale, di dubbioso, di nebuloso. Serviamoci ancora una volta del nostro vocabolario. Ecomostro, edificio costruito in disprezzo di ogni esigenza ambientale e di qualsiasi valutazione estetica. Nel linguaggio sosteneva il filosofo Wittgenstein il significato è l'uso che si fa di una parola, non nel politichese ma nell'uso comune che fa la gente. Ora non solo questi signori non sanno quello che fanno e come lo fanno e lo vedono gli scandianesi ogni volta che escono ed entrano in paese, ma non sanno nemmeno quello che dicono. Vice sindaco Ferri, quando lei afferma che non è tenuto a rispondere a un giornalista, lo ha fatto nella premessa del suo discorso, tra l'altro quel giornalista e suo concittadino, dice l'ennesima eresia. Lei è tenuto a rispondermi, così come funziona in democrazia, non siamo nel ventennio buio che l'Italia ha vissuto. Lei, sindaco, ha dichiarato che anziché correre a tranquillizzare gli scandianesi basiti per quell'orrendo scatolone in cemento, è corso a dare conforto alla ditta e all'imprenditore che lo sta costruendo, non escludendo che questa ditta e questo imprenditore possano querelarmi. Lo faccia lei, lo faccia il vice sindaco, ne avete facoltà a soddifendermi senza arrampicarmi troppo sugli specchi come fate voi. L'imprenditore che lei corre a soccorrere non ha alcuna colpa e glielo dice un giornalista che da anni si occupa di economia, di imprese, di ceramica e lui non ha nessuna responsabilità di quello scatolone. I veri responsabili siete voi che glielo avete permesso. un giornalista dovrebbe indagare servendosi dei documenti, quello mi è stato detto, lo farò, ma anche dovesse essere tutto regolare, come credo, perché in questo non ho alcun dubbio, questo non vi toglierà dall'imbarazzo per ciò che avete deliberato. Sono stato inoltre accusato, quando cito Bobbio e il suo invito a guardare cosa succede dietro, di istigazione al sospetto, al complotto. No, caro sindaco, il riferimento non è all'illecito, bensì al principio di discrezionalità con il quale pesate voi troppo spesso in modo diverso analoghe situazioni. Per cui ad alcuni si dice di sì e ad altri si dice di no. I precedenti qui in ambito amministrativo dovrebbero avere il valore che hanno in ambito giudiziale e processuale. Purtroppo non è così, ci si dimentica del passato, ciò che è stato fatto in passato non ha alcun valore e si vive soltanto il presente. Due parole sull'opposizione, la parte di opposizione che ha presentato l'interrogazione, che dire, imbarazzante l'atteggiamento visto lunedì, anziché difendere colui che non poteva farlo, cioè il sottoscritto perché assente, anche perché non avrebbe potuto farlo, visto il regolamento, del Consiglio Comunale, il consigliere autore, dicevo, di questa richiesta di interrogazione, si è dichiarato soddisfatto in altri termini della risposta, tutt'altro a mio modo di vedere che si cura di sindaco e vice sindaco auspico da qui in avanti un atteggiamento diverso dall'altra opposizione.